Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video Allora, in questo nuovo video vi voglio raccontare della mia esperienza proprio del bullismo perché fino adesso ho fatto video tipo cos'è il bullismo oppure vi parlo della mia esperienza da muta selettiva come anche vittima di bullismo però non ho mai voluto affrontare il fatto cioè il discorso proprio vittima di bullismo Allora, cosa ho provato io quando sono stata vittima di bullismo? All'inizio non sapevo neanche che era bullismo quello che subivo perché non sapevo cos'era il bullismo, non avevo mai sentito parlare poi però sono stati i miei genitori a dire questo è bullismo sono andata a scuola a parlare con i professori che chiaramente non hanno fatto niente dicevano che ero io bugiarta, io esagerata alle medie subivo bullismo fisico quindi tornavo a casa tutti i giorni con le gambe piene di lividi però nessuno faceva niente perché erano bugie eh sì ragazzi, giustamente erano bugie, no? di fondo cosa volete che sia, no? andare a scuola avere i compagni che ti prendono a calci tornare a casa casomai c'hai anche qualche livido ma no, non è niente di che sono cose normalissime ragazzi quindi non vi state a preoccupare e invece per quanto riguarda le scuole superiori la cosa si è fatta più seria perché perché lì praticamente non ho subito bullismo fisico ma bullismo psicologico però a volte le parole fanno molto più male rispetto a uno schiaffo quindi ragazzi state bene attenti perché non è detto che se subite bullismo fisico vi abbia fatto più male perché spesse volte fa più male quando uno usa la sua voce invece che usare diciamo le mani o le gambe praticamente vi dicevano che nella vita non avrei concluso niente che sarei rimasta un alfabeta per la cronaca ragazzi sapete chi è un alfabeta? ho visto un alfabeta nervosa quindi non secco neanche più le parole e colui che non sa leggere e scrivere per la cronaca io quello l'ho imparato a cinque anni quindi ah dico cinque anni però ovviamente proprio bene perché se no anche a due tre anni sapevo già farlo e quindi si ragazzi evidentemente loro non sapevano neanche il significato delle parole per definirmi che sarei rimasta analfabeta per per sempre poi ricordo che ci stava una ragazza che mi racciava in continuazione e diceva che puzzavo e altre cose sempre per offese personali di diffamazione poi venivano in giro delle voci che non erano vere su di me tipo che non studiavo che non mi impegnavo ma non era vero perché io avevo dei voti belli tutte le materie quindi perché non dovevo studiare poi avevo l'ho all'inglese ovviamente la classe faceva polemica nelle ore successive perché io non meritavo di prendere un voto così alto perché io poverina la povera ragazza all'alfabeta che ha preso l'ho all'inglese quindi come avrò fatto giustamente ragazzi non ci fate caso poi al di là di quello che mi facevano vediamo sì diffamazione poi un sacco di cose tipo esclusione senza un perché venivo accusata di cose che non avevo fatto e quindi le cose stanno così e infatti mi ricordo che io l'ultimo anno di scuola proprio non mangiavo più cioè nel senso che mangiavo però saltavo i pasti tipo a volte mangiavo soltanto a mezzogiorno però non mangiavo la sera oppure mangiavo la sera però non mangiavo a mezzogiorno perché questa cosa mi aveva proprio colpita e a maggior ragione il fatto che mi avesse colpito è stato proprio il fatto che i professori anche ci si mettevano ed è brutto quando ci si mettono anche gli adulti perché infatti io ho fatto un video uno dei miei precedenti in cui parlo proprio degli insegnanti che sono bulli cioè per delle cose che mi hanno fatto però ho preso sono stati due esempi perché se mi metto a fare la lista di tutte le cose che mi hanno fatto e detto alla fine qua non finiamo più quindi no ovviamente io l'ho voluto mettere troppo sullo scherzo diciamo così mettendomi anche a scherzare a fingere di non saper pronunciare determinate parole proprio per sdrammatizzare quello che ho passato per sdrammatizzare perché il bullismo secondo me io non capisco ragazzi scusatemi ma io non capisco perché certe persone debbano fare del male ad altre persone per stare bene io questo proprio non lo capisco così come non capisco perché queste persone che fanno del male una volta che l'hanno fatto continuano a farlo cioè nel senso che hanno visto magari il danno che hanno provocato in quella persona perché continuano allora a farlo perché cioè per stare bene non bisogna fare del male a un altro perché bisogna pensare a fare del bene a se stessi e anche agli altri perché soltanto così secondo me si va avanti e io questa cosa è un punto interrogativo che sinceramente me lo chiedo da da quando ho subito bullismo cioè perché per come magari non lo so magari sono persone deboli proprio di carattere che hanno bisogno di fare i duri o magari avranno sofferto nella vita o magari così o magari sarà successo quello avranno avuto dei traumi io non lo so ragazzi non lo so quello che posso dire è che a questi ragazzi perché il bullismo ormai è una cosa che si vede e se ne sentono troppe in giro dico che non è così che si diventa forti anzi così si dimostra soltanto di essere deboli quindi se proprio uno vuole essere forte secondo me la prima cosa che deve fare è fare del bene a se stesso ma anche agli altri e lo deve ledere queste questi ragazzi lo devono ledere gli altri per stare bene e poi se mi avete visto diciamo così scherzare perché adesso sono arrivata a quasi 27 anni perché tra pochi giorni e copio 27 poi faccio uno speciale compleanno col mio fidanzato che si metterà in viaggio proprio l'11 aprile cioè il giorno in cui copio gli anni quindi cioè sono arrivata a questa età che ho capito che il bullismo va preso con ironia perché sono ragazzi che noi non sappiamo cosa hanno passato non sappiamo cosa hanno vissuto non sappiamo come vivono non sappiamo se ce l'hanno i genitori se non ce l'hanno noi di loro non sappiamo niente però io spero che il bullismo venga in un certo senso eliminato proprio dalle scuole ma da ogni parte in realtà e questo però dipende anche dagli adulti perché spesse volte gli adulti come nel mio caso magari hanno fatto finta di niente magari avranno pensato che i bulli in realtà non erano bulli ma i bulli erano le vittime viceversa fatto sta che nel mio caso per esempio non hanno fatto niente e questa cosa è molto male perché una persona vittima di bullismo ha anche bisogno di un appoggio emotivo da parte di un professore comunque di una persona adulta che non sia soltanto il genitore perché è chiaro che il genitore si ti appoggia sempre però hai bisogno anche di altro lo soltanto del genitore quindi ragazzi per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video quindi vi saluto e spero che questo video possa arrivare a tutte quelle persone che o sono vittime di bullismo quindi soffrono o hanno sofferto come me oppure a quei bulli e spero di far cambiare idea almeno a un solo bullo di fare appunto il bullo quindi a presto ragazzi a presto